Sindaco, Tornareccio vuol dire miele in Abruzzo? Sì, qualcuno dice che Tornareccio è miele, latte, una sorta di paradiso dell'Eden. Tornareccio rappresenta il punto cardine per la produzione di miele. Non a caso in questa occasione, la dodicesima rassegna mostra mercato del miele e dei prodotti tipici, cercheremo di tracciare un percorso a 360 gradi di questo prodotto in Abruzzo. In questa manifestazione che ha la dodicesima edizione anche la mostra dei prodotti tipici, quindi non solo miele ma prodotti abruzzesi di qualità. Formaggi, salumi, cioccolate particolari, pasti pregiate, peperoncino, prodotti, tartufi, bevande e preparazioni che in qualche modo servono ad arricchire il paniere del prodotto enogastronomico abruzzese e in particolare della nostra terra. L'occasione di Regine di Miele è anche il momento per esportare sempre di più quello che sul territorio comunale di Tornareccio possiamo dare. Tornareccio è anche conosciuta come la patria dei mosaici, un museo all'aperto con 75-80 opere esposte e che possono essere ammirate e apprezzate in qualsiasi momento della giornata, quindi una due giorni, 27 e 28 settembre, all'insegna anche della conoscenza del territorio, ma non solo. Archeologia, Monte Pallano, mura megalitiche, fattorie didattiche dentro i laboratori di trasformazione del miele, rievocazione storica per la prima volta della transumanza degli apicoltori, quando domenica mattina alle ore 10 ci sarà questa rievocazione in cui gli apicoltori nel passato, il 16 luglio, dopo aver, noi abbiamo un famoso santuario dedicato alla Madonna del Carmine, gli apicoltori dopo aver assistito alla messa partivano verso i territori di Latina, verso quelli che poi erano i luoghi di lavoro. Grazie a tutti.